Parliamo di Inter-Napoli, benvenuti monarchici assoluti, ma prima una frase mia per tutti i tifosi che hanno goduto e ci prendono in giro per la nostra eliminazione dalla Champions. Ricordate che voi, e mi rivolgo soprattutto ai juventini, rubentini e bilanisti che ci criticate in questa stagione, è come uno che passa la vita a farsi le seghe e poi critica Rocco Siffredi per una cilecca. Io vi ricordo che siete a meno sedici e meno diciassette punti, entrambi senza Champions esattamente come noi, i bilanisti, avete fatto un girone dove, girone di ferro un cazzo perché il PSG più scarso della storia, senza nessun fenomeno, scuso Mbappé, Newcastle prima partecipazione, Borussia Dortmund una squadretta. Tant'è vero che in una delle due partite potevate anche vincere e siete andati a casa. Quegli altri, come sempre per le loro ruberie, sono stati esclusi dalle competizioni europee quest'anno, gli scoloriti, ma vi ricordo che la Champions dell'anno scorso si è uscita ai gironi col Maccabi Haifa. Ricordiamo che ha gente che fa altri lavori, c'è chi fa l'elettricista, c'è chi fa il casellante, c'è chi fa il muratore, c'è chi fa il macellaio, c'è chi insegna e poi così a tempo libero si mettono la maglietta, i pantaloncini, i gazzettoni, le scarpe, vanno in campo e hanno la squadra del Maccabi Haifa. Con questi qua avete perso 2-0, credo 2-1 e siete usciti dalla Champions contro questi qua. Solo il cartellino di Vlaovic vale tutta la città del Maccabi Haifa. Comunque, quindi detto questo, parliamo di domani ma non solo di domani, perché io ne... adesso vedi, adesso, perché poi uno deve diventare cattivo, dice ma monarca tu sei cattivo, c'è gente fra l'altro che non capisce un cazzo di comunicazione, gente che non sa neanche parlare, che scambia le C con le Z, ok, che dice che io sono uno cattivo. Primo, un conto è la persona, un conto è il personaggio del monarca nell'azzurro. Secondo, ad avviso di lui e degli altri come lui che credono che io sia troppo cattivo, la creazione dei personaggi ci devono essere solo personaggi che fanno ridere, personaggi, i fiorellini. Come se nei film non ci fossero anche personaggi duri, personaggi che sanno imporsi. No, per loro esistono solo personaggi comici che fanno, tentano di far ridere e fra l'altro parlando di calcio non fanno mezza analisi. Io magari a volte sarò pure molto duro nelle mie esposizioni, ma d'altronde il personaggio che ho creato non si chiama collettivo nerazzurro. Il fiorellino nerazzurro, si chiama monarca nerazzurro, quindi è chiara la mia intenzione di essere molto deciso nelle mie teorie. Ma quantomeno io, per quanto deciso, per quanto a volte incazzoso nel mio personaggio, faccio analisi di calcio. Non mi limito a dire, eh ma la squadra ha fatto cagare, facciamo cagare, senza mezza analisi tecnica di gente che non sa neanche cosa sia una palla scoperta, cosa sia una diagonale, eccetera, 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 e tutte le cose che so io sulla tattica. Tanto è vero che chi mi segue in live sa, e non c'è bisogno di avere il patentino, eh. Non c'è bisogno di, tu ti senti allenatore e non c'è il patentino, no. Basta semplicemente studiare, grazie a Dio ci sono molti mezzi per farlo a giorno d'oggi, e piuttosto che dedicare il tempo alle cazzate, magari dedicarlo a una passione per dare a voi, a voi che siete qui a guardare, me, ma anche appunto gli altri creator, a dare un qualcosa in più rispetto a quello che voi non avete il tempo di fare. Non che non avete la facoltà di fare, che non siete abbastanza intelligenti. Magari io rinuncio a fare certe cose nel mio tempo libero per mettermi a studiare numeri, statistiche, tattiche, informarmi, eccetera, e poi comunicarle a voi, ok? Questo è, secondo me, fare seriamente lo youtuber, in questo caso di calcio, il comunicatore di calcio, ok? Il diffusore di calcio. Poi c'è chi vuole fare solo leader, è una scelta, però a mio avviso si aprisse le canali comici. Bisogna fare analisi, cioè dire dopo una sconfitta, che ne so, 2-1, 3-2, abbiamo fatto cagare, facciamo cagare, e tirare fuori i pupazzetti, piuttosto che le altre robe, la carta igienica, eccetera, eccetera, quello non è fare analisi, quello è fare pagliacci. Vabbè, fateli pure, ma accettate anche la creazione di personaggi che possono essere differenti, magari più duri come il mio, ma che quantomeno ne sanno, perché nel mondo non c'è solo il fiorellino che fa ridere, ma ci sono anche altri tipi di personaggi, altrimenti ci sarebbero solo libri e film o storie di comici, pagliacci, e non è così. Detto questo, scusate, ma lo sfogo era dovuto. Napoli-Inter-Napoli, insomma, ce la giochiamo con loro, in casa, Inter-Napoli, a San Siro, e mi dispiace per loro, mi dispiace per i napoletani, e mi dispiace per tutte le squadre che affronteremo da ora in poi, ma io calcisticamente, ovviamente, voglio raterli al suolo. E non perché mi interessi qualcosa del record di punti da battere, no, 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 non per quello, perché io sono certo che tutti, tutti escluso noi fratelli interisti, hanno goduto della nostra eliminazione, no? Perché sappiamo che questo è un paese di invidiosi. E quindi io la voglio fare pagare, io la voglio fare pagare, ad iniziare dal Napoli. Cioè, a me, da ora in poi, non basta la vittoria, sofferto, no, proprio, io voglio la distruzione, come fosse tutti i giorni un derby, no? Che sono più o meno anni che li prendiamo appallonate, a schiaffoni in faccia. Ecco, vorrei la stessa identica cosa in tutte le altre partite adesso, visto che ora c'è una settimana per prepararle le partite, speriamo quindi che diminuiranno anche gli infortuni o i cali di forma, voglio proprio radere al suolo chiunque si presenti in campo con noi, ancora di più di quello che abbiamo fatto fin qui, perché noi abbiamo fatto tutte le vittorie, tranne un pareggio e una sconfitta, ma non mi basta, cioè voglio tutte le vittorie come il derby del 5-1, tutte così le voglio. O come con la Fiorentina, mi ricordo che le abbiamo fatte quattro, cioè proprio voglio partite che non esistano, partite che non esistano, ma subito, è già il primo tempo, voglio 2-3-0 perché so che possiamo farlo adesso, dobbiamo farlo, voglio radere tutti al suolo. Quindi con il Napoli, turnover, ma, turnover, ma, è vero che se non andate via tante energie nervose, sì, forse proprio per questa partita la farei, lo farei un po' di turnover, ma poi da qui in poi basta, voglio solo i titolari, quindi per questa partita farei rifiutare Mkhitaryan, perché con l'Atletico ha fatto schifo più degli altri, ma non darò mai la colpa a lui, ha un'età e gioca sempre, però anche basta, allora abbiamo preso Frattesi, 40 milioni che cazzo abbiamo preso a fare, mettiamo in campo sto ragazzo. Quindi Frattesi, Barella, Ciala, non può uscire, gioca bene, gioca male, non può uscire, perché Castellani non è nello stesso livello, soprattutto con il Napoli, poi che comunque anche quest'anno facendo schifo e pena, ma i giocatori che ti fanno la giocata ce li ha, eccetera, quindi no, Cialanopolo voglia in campo. Per quanto riguarda la difesa, Pavar che si riposi un po' dopo la stronzata che ha fatto con l'Atletico, Bissek è entrato benissimo, quest'anno Bissek ha giocato quasi sempre bene, tolto la partita in Champions con il Benfica, quindi Bissek titolare tutta la vita sì, Bissek titolare tutta la vita sì, facciamo tornare a Cerbi in mezzo, per favore, grazie, Bastoni a sinistra, che è stato probabilmente il mio re in campo con l'Atletico, assieme a Sanchez, ovviamente se non me l'importa, a destra, ma sapete cosa vi dico? Io lancerei Buchenon, non so che Inzaghi non lo farà mai, ma io lancerei Buchenon, perché a mio avviso sia Darmian che Dunfriss con l'Atletico hanno fatto male, probabilmente entrambi, Darmian deve riposare un po', e comunque l'esterno a tutta fascia non è il suo ruolo esatto, sappiamo che ormai è un braccetto, lui non ha la forza per fare la fascia tutti i 90 minuti, ci sarebbe Dunfriss, io lancerei Buchenon, nel dubbio comunque meglio Dunfriss, perché voglio uno che me l'attacca quella fascia. Dall'altra parte Di Marco, va benissimo, anche perché non c'è alternativa, visto che lo so gusto se è fatto male, in avanti farei turn over, ma guarda Sanchez è inzato benissimo, con l'Atletico, io quasi che lo farei partire titolare, lo farei partire titolare e farei riposare un po' Turam, visto che comunque viene dall'infortunio, ancora non è al 100%, quindi farei Sanchez-Lautaro, per quanto riguarda i loro pericoli, i ragazzi sono due, Osimene e Clavaschelia, Clavaschelia addirittura forse non è così in forma, forse neanche giocherà, quindi bisogna dare un occhio a Clavaschelia, poi sì ovviamente anche a Raspadori, per carità di Dio, però tolto quei due, il Napoli è bello che è finito, quindi questo è quello che io farei per domani, cosa fareste voi? fatemelo sapere nei commenti, quindi iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le notifiche di quando faccio i video, o di quando faccio le live, live che faremo domani, seguiremo i Gobbi, a mezzogiorno e un quarto iniziamo, con la loro partita e come ho promesso subito dopo l'eliminazione dalla Champions, da adesso, a ogni sconfitta che faranno prestazione negativa, li distruggerò, cioè farò dei video proprio dove cercherò di mandarli dallo psicologo, li metterò di tutti i colori come loro hanno esultato per la nostra eliminazione, sia a loro che ai bilanisti che hanno la finanza in sede, ricordiamolo sempre, vediamo come finirà sta storia. Quindi, fatemi sapere, iscrivetevi al canale e il nostro solito saluto in latino, vide te mox, amala.